Nei sotterranei del Teatro Sociale di Sondrio si nasconde un piccolo scrigno, un gioiello che risale al XIX secolo e che presto sarà a disposizione della cittadinanza. A luglio partiranno i lavori di restauro delle vecchie mura del teatro, che racchiudono uno spazio di circa 350 metri quadri. Andiamo a riqualificare i sotterranei del Teatro Sociale, il vecchio teatro ottocentesco e abbiamo un progetto da 700 mila euro, partiranno i lavori a breve per un primo lotto funzionale di 400 mila euro. Quindi restituiremo la città, un luogo simbolico che ha un fascino tutto particolare, che appartiene alla storia della nostra città, della nostra comunità. A dirigere i lavori ci sarà l'architetto Gianpaolo Rinaldi, già sovrintendente delle opere relativo al Teatro Sociale di Sondrio. Viene creata una sala per 90-100 posti, sala conferenze, sala concerti e anche spazi espositivi per mostre e piccoli spettacoli. I lavori sono innanzitutto di carattere impiantistico, per questioni tecniche, quindi antincendio, impianti elettrici, impianti meccanici, condizionamento eccetera. Poi faremo dei lavori edili connessi nel primo lotto, col restauro delle murature. C'è un restauro molto accurato di queste murature, sotto la sorveglianza della soprintendenza che ha approvato il progetto. In una seconda fase faremo tutte le finiture, quindi i pavimenti, i controsoffitti, i corpi illuminanti e gli arredi. L'intervento avrà un costo complessivo di 700.000 euro. Il primo lotto partirà a luglio e comporterà un impegno di 400.000 euro, 664 provenienti dal progetto Calt City, altri 104 dall'Art Bonus, di cui 100.000 offerti dalla Banca Popolare di Sondrio, e altri 37.000 derivanti da risorse interne. Il termine dei lavori è previsto nel mese di ottobre.